Eccoci tornati a Piazza Duomo con Enrico, Umberto del Nobile, il mio chef pasticcere. Siamo qua per presentare ora il dolce. Presentiamo una liquirizia con limone e gelato al fior di latte. Andiamo a mettere la liquirizia che abbiamo appunto cotto con una riduzione. Umberto ora mette il biscotto che servirà per tenere il gelato al fior di latte. Abbiniamo questa liquirizia con una crema pasticcera al grano saraceno. Così. Mettiamo poi sulla crema pasticcera del grano saraceno caramellato passato nel zucchero per dare una nota più croccante. E una spruzzata di polvere di liquirizia. Adagiamo il grano saraceno sulla crema pasticcera. Completiamo la radice di liquirizia con queste piccole meringhe di limone. Intercaliamo con la menta e un verbo ora mette la menta. Iniziamo con il gelato al fior di latte e dei germogli di saraceno. Abbiamo qua la nostra liquirizia, limone e prima pasticcera al saraceno. Buon appetito!